Sale la preoccupazione per la giornata di domani in vista delle entrate in vigore dell'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Il rischio concreto è quello di picchetti improvvisanti, sit-in nelle fabbriche e blocco degli autotrasportatori ai nodi autostradali dei lavoratori nei porti. Chiedono lo slittamento dell'obbligo al 30 di ottobre gli operatori dello scalo di Trieste, infastiditi dalla contrarietà dei sindacati confederali alla loro protesta. Intanto il presidente di Confindustria Bonomi interviene sulla proposta dei sindacati di far pagare il costo dei tamponi alle aziende e non riteniamo sia questa la strada. Grazie per la visione!